Una formazione, quella degli allievi di Nuova Felta, che definì la pazza nel linguaggio calcistico e sarebbe un vero e proprio complimento. Un girone da andata a dimenticare con i penulti opposti in gradatoria. Assorbito il colpo, i ragazzi sono cresciuti in tutti i sensi e hanno sfornato da gennaio in avanti, nell'altro girone di cui ora fanno parte, delle prestazioni super, tanto da agganciare anche il primato. Lo sconto con la Marignanese ha spezzato i sonni di gloria. Poi il pareggio nell'ultima gara ottenuta sul campo del Coriano per 3-3, con una super tripletta di Francesco Paolucci, il 4-0 in esterna a Miramare con doppietta di Sartini e il rete di Martella e Paolucci hanno proiettato nuovamente gli allievi nelle posizioni dove i dei non osano mettere mani e becco. Il quinto posto in classifica, meno 4 dalla vetta, testimonia l'ottimo andamento dei gialloblu. Il cambio da allenatore con l'avvenuta sostituzione del Duomo e Nardi Rossini e quali il mai ringraziamento del club con l'avvento in panchina di Bruno Mazzarini è una vera e propria scommessa di società per l'attaccante stesso. Al comunale di Secchiano arriva la sesta della classe colonnella, che vanta la miglior difesa del torneo con solo i 13 reti incassate. Di fronte, Innova Feltia, che ha dalla sua il maggior potenziale offensivo del campionato con 43, gol all'attivo. Potenziale che viene messo subito in scena dal trainer Mazzarini, che vede subito premiati i propri sforzi. Dall'angolo, Innova Feltia colpisce, doppio traversone, colpo di testa di Enea Sartini e 1-0 gialloblu, anche se oggi viene sfoggiato il bianco con tanto di Marco Altarivini. Innova Feltia è devastante, gioca in scioltezza e penetra in aria facilmente. Qui Paolucci viene prima murato, poi l'attaccante stesso alza la mira. Da un'impostazione di gioco a scatti in profondità Casali, bravo a rubare il tempo all'avversario, ma non inquadri il bersaglio. Dominio dei padroni di casa, questa volta Sartini lanciato in profondità, mordi il pallone e buca Ivaschenko. 2-0 e doccia gelata nuovamente per un colonnella mai in partita, che cerca la prima sortita offensiva intorno alla mezz'ora, con una girata alla distanza di Ricalloni che mette i brividi a Cinarelli. Pula, dall'altra parte, non vuole essere da meno, ma non incide. Sartini, in versione assistman, suggerisce al centro, ma Martelli sfiora così la marcatura. Paolucci, invece, con una progressione devastante sulla sinistra, sfonda al centro un invitante assist al bacio, al quale Sartini non desiste, rispondendo presente, mangiando il pallone come un ovetto di Pasqua e gettando in rete la sfera del 3-0. Nella ripresa, lo scenario non cambia. Paolucci viene neutralizzato da Ivaschenko. Ancora una volta Paolucci, protagonista, ma centra in legno con Zavatta, che allontana il pericolo. Colonnella, che si fa vedere al tiro, mentre Nova Feltia prova a colpire da calcio piazzato, con Magnani, ma Ivaschenko c'è. Alla mezz'ora, grande azione e spettacolo di Nova Feltia. Sartini inventa uno slalom devastante. Toadera, appena entrato, libero al centro dell'area, viene servito da compagno, per firmare così il poker definitivo. Alla festa vuole partecipare anche Valdifiori. Punizione centrale. Colonnella, la disperata, Currai inventa successivamente. Nucarloni raccoglie una prova a punizione, ma spara sull'esterno della rete. Valdifiori tenta nuovamente l'effetto sorpreso su punizione. Questa volta Ivaschenko, in due tempi, riesce a trattenere il pallone. Currai mette alla prova, invece, dall'altra parte, i riflessi di Masella, che le spinge da terra e sempre da terra, allontana il pericolo con uno sbalzo da felino. E ora Ivan Ricci, responsabile del settore giovanile, può finalmente respirare. La mission è compiuta, mentre, da madre a padre, la passione per il piccolo figlio Leo non muta. Guarda con occhi attenti i piccoli campioni, sognando un giorno di essere anche lui lì a festeggiare, toccando con mano quella vetta dove gli dei non usano a mettere né mani e né becco.